Che mondo sarebbe senza biscotti? Un mondo in cui il latte non servirebbe a niente. Viva il latte. Riverenza a tutta la valle spaziale. Oggi assaggeremo quattro tipologie differenti di biscotti. Davanti avremo la marca principale, quella più conosciuta, più famosa, più pubblicizzata e due marche minori, diciamo delle imitazioni della marca principale. Senza poterle vedere, solamente basandoci sul sapore, quale saranno le più buone? Belle! La sono messa a storta, molto grazie. Sono pronto a tutt'ora. Davanti a noi abbiamo i biscotti con le gocce di cioccolato, di cui la marca più famosa sono, direi, le gocciole. Le gocciole, che è un grande compagno di piace. Dà l'odore in ebria ai sensi. Sono un biscotto particolare, perché è molto buono, però non so se fa lo stesso effetto a te, ma stomaca un sacco. Nel senso lo mangi, ti paluga tutto e ne mangi tre se è già pieno per tutta la giornata. No, io andrei avanti ad oltranza sulle gocce. Assaggiamo il primo. Al tatto è molto secca. Si stacca un po' la polverina del biscotto. È molto secca e asciutta. Prova a assaggiare. Non è buono l'odore. L'odore è buono, ma sta più di pane rispetto all'odore di goccele in cui sono abituato. È poco cioccolato. Le gocce di cioccolato sono buone in questi biscotti. Sono molto fragranti, però il biscotto in sé è un po' secco. Passa la seconda. Già qua a tatto ci si andi più. È più fresh. Non so se... Il profumo di vera è più umido. Il profumo è più delicato. Sono tutti molto simili, ma il profumo qui è meno intenso. Anche il sapore è abbastanza nulla, nel senso... Il biscotto è più piacevole da masticare, ma non si sente il cioccolato, ovvero. Non si sente proprio, mentre nell'altro ogni goccia aveva la propria identità. Qui no, qua si perde abbastanza. Io passo al terzo. Aspetta che ho l'impallugazione la gocciola. Ragazzi, riprendiamo il video tra 45 minuti che non mi aspettiamo. Io ho in mano il terzo. E ti dico che non so perché... Aspetta. Sembra bagnato. Sì, ma come feelings? Mi ricorda proprio le gocce, le gocce, le gocce. Anche a me, ma non mi piace la sensazione che dà le mani. Il 2 è molto meglio perché... È umido. Sembra bagnato. È umido, sembra che sia già stato tocciato di una latte. Forse questo come consistenza è quello che vince. Ma anche qua non si sente il cioccolato. Non è che distingui la pasta frolla dal cioccolato. Ma no, fa schifo. Aspetta, quel retrogusto di dispensa proprio. No, veramente. Quando lasci i biscotti un po' a marcire dietro alla dispensa che li hai recuperi dopo tre mesi. Un po' di vecchio sai, hai ragione. Di pelle di vecchio. Pelle di anziano. Quello sì, è vero. Sa un po' di vecchio, però non mi dispiace. Forse è quello che mi piace di più. A differenza del primo, mi piace meno per la consistenza, di più perché le gocce sono più buone. Proprio la goccia di cioccolato è più buona. Io provo ad intorciare quest'ultimo per vedere se mi cambia qualcosa. Non capisco l'altezza del latte. Ci torcio le dita sicuro. Quale è il più buono? Primo. Primo. Le goccele originali erano il secondo. Ah, la sbianca. Io avrei detto goccele originali e il terzo. Però il primo era nettamente buono. Il terzo veramente ha il sapore proprio di statino. Eh, ma me neanche che coloro. Non lo so. Allora, i primi molto più saporiti. Il secondo, goccele di cioccolato che quasi non si sentivano. Però all'incirca siamo proprio lì. Adesso qui abbiamo dei generici biscotti con panna, di cui la marca principale chiaramente è quella della bulino bianco, le macine. Ah, le macine non le ho mai sopportate. Sono veramente state biscotto delle mie elementari. Cioè io alle elementari, se alla mattina non avevo le macine col latte, non facevo colazione. Ma come fai a godere? Non c'è il cioccolato. I biscotti sono veri. I biscotti solo se c'è il cioccolato. Ma dove vivi? Ma dove vivi? Ma che schifo. Quella consistenza burrosa quando si semi-sciolgono nel latte. Cos'è così friato di guano. Io assaggio il primo. Che domaroni. Sono tutte le mani piene di polveri di biscotti. No, no, non è la macina. Allora, ti dico. Ha una forma strana. C'ha un buco qua che però praticamente non esiste sotto. Ah, è vero? C'ha un crattere, è tipo vulcano, no? Fa così. C'è un foretto, una cloacca. Qui siamo a valutare non qual è la macina, ma qual è il più buono. E la forma, l'abito non fa il monaco, la forma non fa il biscotto, il buco non fa la macina. Manda, non è la macina. La macina è la macina e non può essere imitata. Te lo dico. No, no, no. E mi sento anche pure offeso. No, questa non è la macina, però non è male, sa di pannocchia. Prende dai. Pannocchia. Poco burro, poco burro. Ma sai cosa ho paura? Che abbiano cambiato la ricetta e abbiano messo meno burro. Perché in ogni macina ci sono 350 grammi di burro almeno. E sicuramente adesso... Proviamo quanto è friabile. Eh, ho fatto fatica. Guarda che odore sa di calestrello. Perciò altri. Che puzza. Fa un odore strano, secondo me. Sa di... No. Solo il latte. No, 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 no. Sa di McDonald's. Può essere. Solo il latte potrà dirlo, se è la mia macina. Questa è più buona del primo. Ha un sapore meno forte, meno di campo di grano. Questa è la macina. Inutile che stai ad indugiare intorno al biscotto. Questa è la macina. No, no. Ed è la più buona. Fine. Punto. Il rischio, però, di essere così delicati col sapore come con questo biscotto è che diventi insapore. Non sa di niente. Il 2 non sa di niente. Ah, il 3 ha una forma che mi piace di più. Dai, sa di scroto. Così a tatto. No, non di scroto. Sa di... Mmm, sa di... No, dai. Mmm. Sa di vecchia incipriata questo. Ha un odore fortissimo. Le signore anziane che incontri per strada che hanno 34 litri di profumo addosso. Sa di chupa chups, panna e fragola. Oh, è vero. Sì, vi giuro, ragazzi. Ha un odore fortissimo e dolcissimo. Vi provo ad assaggiarlo. È più duro. Ha testo e fiabilità. Ma cos'è? C'è vento. Eh, è un altro cungo. È più duro. È una panetta di panna. Si scioglie in bocca. È assurdo. Fa schifo. È così buono che ti viene il dubbio che sia malsano. Ma non è buono. No, allora, è buono. Però dici, è malsanissimo perché questo veramente, ragazzi, è come mangiare della morte in biscotto. E dici, allora, no, mi viene il colesterolo alto. E con la panna ti si alza il colesterolo. Non so neanche cosa sia il colesterolo. No, no, lo bocca abbastanza. Palezzo, palezzo, veramente. Dopo uno ci sei già lì che pochi. È stomachevole. Stomachevole, però mi sto impiastricciando. Poi l'ho toccato due secondi e mi si sta sfaldando nella mano. Qual è il più buono? Il secondo e ti dico che è la macina. Secondo me il più buono è il primo. Le macini originali sono il piatto come rovuto. Ma bacca boia. Smerdazzo sul tuo campo. Me ne vado. Qui davanti abbiamo dei biscotti di cacao con stelline di zucchero. Zucchero. Le più famose sono le pandistelle. O i pandistelle, non lo so. I pandistelle. I pandistelle della Molino Bianco. Ah, aspettate, ma forse questo biscotto ha una forma discoidale? Eh sì. Mi state dicendo questo? Eh sì. No, no, è per una taxina. No. Andiamo avanti. No, ti prego. Andiamo avanti con il primo assaggio. È marrone, sporchi muri. Sporchi muri. Non lanciarlo. Non lanciarlo. Io passo all'assaggio del primo, ti dico la domanda. Anch'io. I pandistelle, mentre per le macine erano... Non mi toccare che mi stai nervosendo. Le macine erano il tuo biscotto degli elementari. Possiamo dire che i pandistelle insieme ai pavesini sono le mie, quindi... Pavesini? Quindi non le riconoscerai sicuro queste. Il primo fa puzza. Soprattutto è sottilissimo. È minuscolo. Io le ricordo più ciccionini. È puzza proprio. Vado, eh? Vai. Ragazzi, questi biscotti sono nuovi in teoria. L'hai lanciato? Che merda. L'hai lanciato? Eh sì, eh. Ma perché? Perché ne ho un altro. A chi mi dice, sprecate il cibo? No, no. Questo fa schifo proprio. È amarissimo. Ci sono dimenticati lo zucchero. In realtà, probabilmente, sa più di cacao. C'è meno zucchero e magari è anche più sano. Però il sapore è abbastanza negativo su un palato. Ti fa dire, eh, la vita è ingiusta mentre lo mangi. È vero, è vero. Non è un biscotto che mangerei davanti alla tv. La scuola non mi piace. La fidanzata non mi caga. Perché è amato? È il biscotto cupo. È il biscotto della tristezza. Penso che andrò alla finestra. E mi suicidò. No, no. Ragazzo morto, dopo aver mangiato un biscotto... L'hai lanciato di nuovo? No, 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 no. È cattivo. Poi io passo al 2. Eh, sa già. Ma sentite le stelle sopra, sono a punta. Fanno male. Si è spaccato in dieci pezzi. Sono molto prosperose. Ti ha fatto male? Sera! Non giocate col cibo a casa. E dopo lo mangiamo tutto. Ma io però ho un appunto da fare. Sia il primo che il secondo. Nonostante questi siano biscotti provenienti da dei pacchetti chiusi, sembrano vecchi. Sembra che abbiano preso dell'aria. Sono mollicci. No, questo invece è molto più buono. È più buono. Zuccherato. Ma no, ma il primo era inchiavabile. Cioè, al primo non c'è proprio dubbio. Dolce, dolce. Più friabile. Mi inquietano le stelle a punta, però è buono. Le stelle a punta, ragazzi figli. Passiamo al terzo. Questa è una forma completamente diversa dagli altri. Sembra più grasso, sembra più tranquillo anche, più calmo come biscotto. Quel bambino che viene ebullizzato alle elementari. È un biscotto giandone. Grassoccio. È un biscotto giandone. È proprio delle immagini che faccio. Oh, sono un po' grandi stelle. È un gigante buono. Anche questo è amaro. Poco dolce, molto amaro. Non è molto amaro quanto il primo, però è più amaro sicuramente. Prova a concentrarti sul sapore che ha in bocca. Non ce l'ho. Prova a tocciarlo un attimo, vedere se cambia un po' la situa. No. Ha tolto il sapore anche al latte. Non sapete il latte. Qualunque cosa tolto diventerà. Stai facendo? Insaporivo. Qual è il tuo uomo? Il due. Gli originali sono il numero due. Qua la marca vince. È proprio un altro livello rispetto agli altri due. Un altro livello. Cioè, gli altri sono qua e lui invece è proprio alle stelle perché è un fan di stelle. Io quando sento queste cose... Bravo! Qui davanti abbiamo gli orociocchi. Ma no. Sono gli oro senza ciocchi. Cioè, non c'è cioccolato? No. Ma che vita di merda. Qui davanti abbiamo dei classici biscotti secchi da inzuppo. Forse una delle invenzioni più tristi che l'uomo ha mai fatto. Ma più comuni. Perché sfido chiunque a non avere una nonna con il biscotto secco da inzuppo. In gira. Ma chi è che li mangia? Cioè, devi per forza... Ma chi è che più toccia i biscotti nel latte? È passato di moda. Infatti si tocciano nel tè questi. Ah, ok. Cioè, si inzuppano da qualche parte. Insomma, si inzuppa. Fa l'inzuppone. Fa l'inzuppare dove ti pare, basta che l'inzuppi. Basta che inzuppi. Altrimenti sembra di buttare su il deserto del Sinaic. Oh! Hai assaggiato? No. Eh? No, non posso fare. Ok, aspetta. Allora aspettami. Non mi aspetta. Il primo? Oh, ma sembra coperto di plastica. Cioè, sembra... No, ha della bava sopra per cui ormai ha cominciato quel processo di degradazione. Tipo le cover dei cellulari che sono... Non è felpato. P.V.C. No, tipo siliconato. C'ha una cover. Beh, l'odore è classico, se non trovo... Io non volevo. Stai cercando di imitarmi. No, ho dato un clicco per sestare la solidità, si è spezzato. Ho un buco nel muro adesso. Assaggiamo il primo. È come inocchia 3000. Prima assaggiamo senza inzuppare, poi inzuppiamo. Senza inzuppare la sensazione è... Brava. Sto masticando un insetto. Eh, io voglio avere un buco e una cavalletta. Sta di ostia. Provo a intucciare perché magari diventa magico. No, adesso sono di cartone bagnato. Beh, è uguale, non ha cambiato consistenza. Hai presente quando c'è la neve fuori? Allora, prima di entrare in casa, metti il cartone per terra, la gente entra e si asciuga le scarpe. Sembra di mangiare quello, con un po' di fanghiglia anche, che ha un retrogusto di schifo. No, 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 è chiamabile. Ma se io gli tiro un pugno sul piatto, mi si spezza la nocetta oppure mi si spezza il biscotto, secondo voi? Intanto la forma. I primi mi sembrano rettangolari, i secondi sono quadrati, non più piccolini. Questi proprio, veramente, l'odore non esiste. È carta per davvero. Il materiale che usano all'incheo per descrivere. Provo a assaggiare. È già meglio del primo, eh. Molto meglio del primo. Noi adesso stiamo facendo un taste test dove la marca principale sono gli Oro Saiva. Ma c'è una marca che sopra questi ha scavalcato tutti, ha creato il biscotto di un zuppo perfetto. Lo sveglio, ragazzi. Questa è più saporita, però non lo so, mi lasciano tutti quel senso di nostalgia. Il terzo come forma sembra molto meglio, nonostante sembri anche questo plastificato. Sì, ma hanno un odore terribile, veramente. Mi ricordano quei pomeriggi che passavo sul divano in casa di mia nonna, di mia zia, mi rompevo proprio le palle. Il sapore di biscotti che sanno di vene varicose. I capelli bianchi. Esatto. Ma sono tutti i cubi di biscotti alla fine, sai? Anche questo dico un po' le cavallette. Sì, ma questo è l'Oro Saiva, ragazzi. Ve lo dico io. Mi chiamano veggente. Ma prima hai sbagliato. Prima hai fatto tutta sta cosa. Quello lì è nella macina. E poi hai sbagliato malamente. Tu fidati di me. Ma questo è l'Oro Saiva. Può venire zuppare questo angolino che mi mi ha in mano. Sa un po' di cracker. Qual è il vuoto dei tre? Sì, il tre io dico il tre. Due. Senza dubbio. L'Oro Saiva, la marca originale è la numero tre. Scusami, ragazzo. Scusami. Belli da vedere. Sono proprio brutti. Mi sono di oggetto decorativo. Abbiamo visto che nel mondo dei biscotti c'è abbastanza equilibrio tra marche e sottomarche. Come lo era poi quello delle merendine, dai, alla fine. Il mondo della colazione è equilibrato. Spolliciate qua sotto, lasciateci un like. Arriviamo a 5.000 like per avere un altro taste test. Sì, però che cosa assaggiamo in un altro taste test? Ce lo diranno loro nei commenti. Suggeriteci, scrivendoci qui sotto qualcosina, che cosa vorreste che assaggiassimo nel prossimo taste test. Come al solito nei video comparison delle sottomarche con le marche principali, condividete il video per diffondere il verbo. Non è giusto che il mercato costoso, più costoso perché in questo video vi abbiamo addirittura messo in sovrappressione i prezzi delle cose che abbiamo comprato. Non è giusto che le marche continuino a dominare il mercato quando non sono effettivamente sempre, in ogni caso, al 100% le più buone. E nel caso non le abbiate visti, andate a vedere i taste test precedenti. Saluti dalla valle spaziale. Sai che cosa sembrano questi? Degli shuriken. Hai pensato dove l'avete preso sul latte? Davide. Ah, è scaduto. È il latte buono sotto. Ah, ok. L'è stato aperto da due settimane. Boh, un mese. Merda. Ok. Ok.